Vogliamo raccontarti una storia, una storia che ti riguarda. I remember when I crossed the sea, I was dirty when you looked at me, We've been sailing since the sun went down, And we're all so glad to hit the ground, Pretty baby coming on my way, And I'm wondering if I'd have to play, But something happened when you took my hand. Guarda, questo è quello che abbiamo fatto insieme dal 2005 ad oggi. My oh my, I didn't understand that I was talking to you, Talking to me, A pirate's life was waiting on the eyes. Quest'anno abbiamo vinto un bando grazie a un progetto che ha coinvolto il Politecnico di Milano, l'Università Bicocca e l'Accademia di Breva. Ecco quello che faremo grazie a loro. Hoba, Hoba, said my parrot friend, Anniere sub, This is not a time to make amends. How this little bird can be so cool, Anniere sub, While I'm livin' my life like a fool. Grazie per la visione Ma ora attenzione perché questa è la parte più importante che riguarda anche te L'investimento totale prevede 300.000 euro Di questi 255.000 euro sono già stati e saranno investiti dal Circolo Magnolia per l'attuazione dei lavori Per completare questo ambizioso progetto ci manca ancora un pezzetto per il quale chiediamo il tuo aiuto Grazie per la visione